Per Prince lei è qualcosa di speciale, per me Jagger ha una classe unica, un'artista che fa musica fantastica, per George Michael è semplicemente la miglior voce femminile che abbia mai sentito. Ha 24 anni, ma si potrebbe dire che canta da secoli, anche se lo fa da meno di 10 anni, un talento enorme, un'artista straordinaria che sul palco regala momenti di struggente bellezza. In America ha avuto un successo che non si vedeva dai tempi dei Rolling Stones ed ha appena ritirato. L'European Music Award, canta come il legno crepita sul fuoco, nelle sue canzoni lei è brutalmente onesta. Attualmente è impegnata in una torne europea, ha scelto due televisioni in tutta Europa, una in Germania e una qui con noi. A quelli che calcio con Back to Back, canzone che dà il titolo al suo album, che ha già venduto 4 milioni di copie in tutto il mondo, signori e signori, ladies and gentlemen, Hemi Whitehouse! He left no time to regret, kept his day away, well, kept saying, oh, safe bet. Be me and my hair high, and my tears dry, get on with the eye of my God. Be me and my hair high, and my tears dry, get on with the eye of my God. Be me and my teeth dry, get on with the eye of my God. Be me and my hair high, and my tears dry, get on with the eye of my God. I love your mother Yes I need all you love me I love her And why I like Like a pie And I want a tiny baby Oh The child We only Say goodbye with words I died a hundred Times You go back To her and I Go back to her We only Say goodbye with words I died a hundred Times You go back To her and I I go back To her and I 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